Aveva l'abitudine di scherzare col fuoco ma stavolta si è bruciato anche lui perché è arrestato dai carabinieri di Nociano Inferiore. Un altro giovane è finito nel merino delle forze dell'ordine per essere tra i responsabili dell'incendio del Saretto a Sarno tra il 20 e 21 settembre scorso. Si tratta di un giovane di 16 anni di Sarno per il quale stamattina i carabinieri del reparto territoriale di Nociano Inferiore, nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura dei Minori di Salerno relativa all'incendio, hanno eseguito nei suoi confronti l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale dei Minori. Il giovane, già noto alle forze di polizia, si trovava al momento dell'esecuzione della misura collocato in comunità perché recentemente era stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'ordinanza cautelare è stata emessa all'esito di un'intensa attività investigativa svolta inizialmente dai carabinieri di Sarno con il coordinamento del PM Fasano e poi sviluppata dai carabinieri di Nociano Inferiore sotto la direzione della Procura per i Minorenni Salernitana. Indagini che sono state portate avanti raccogliendo testimonianze di persone che abitano nei pressi dell'area dove si è sviluppato l'incendio, dichiarazioni che hanno trovato riscontri dalle immagini anche delle telecamere di videosorveglianza che avevano ripreso 5 minorenni intenti a recarsi nell'area interessata dalle fiamme. Ai giovani erano stati sequestrati poi i telefoni cellulari e dai messaggi era risultato chiaro che il fatto era riconducibile anche al giovane arrestato questa mattina. Sempre dalle indagini è emerso che il giovane aveva volontariamente e ripetutamente appiccato il fuoco a delle sterpaie con un accendino reiterando la sua condotta finché il fuoco non si è sviluppato in modo tragicamente incontrollabile. Dalle indagini è stato evidenziato come l'arrestato aveva l'abitudine di scherzare col fuoco come dicevamo anche in presenza degli amici incurante delle possibili e conseguenze delle sue azioni. Stavolta però lo scherzo è costato un vero e proprio disastro ambientale con notevoli ripercussioni sull'ecosistema essendo andati distrutti circa 20 ettari di rimboschimento e 5 ettari di macchia mediterranea la cui ricostituzione risulterà particolarmente onerosa con interventi di riqualificazione eccezionali. Il gesto di questo giovane degli altri ha portato poi anche all'evacuazione di circa 150 persone visto il rischio di propagazione delle fiamme verso le zone abitate. Gli esperti dei carabinieri della forestale hanno stimato che per ripristinare lo stato dei luoghi e per provvedere al rimboschimento delle aree colpite dall'incendio sarà necessario un periodo superiore a 20 anni.